Ok, allora devo consegnare questa lettera Light, che non so perché mi è arrivata a me e questa cosa non è normale, quindi vediamo se Light è in casa. Light! Light! Sei in casa? Light! Dixon! Sì! Oh, e cosa ci fai in piscina? È una bellissima giornata di primavera, prendi il sole. Beh, non direi. Senti, comunque c'è una lettera per te, non ho idea da dove arrivi. Per me? Sì, ce l'hai dietro, Light. Non per dire, l'hai dietro. Di chi è? Oddio, sono curiosa. Non lo so, mi ha detto il possibile di dartela, mi è arrivata la mia cassetta alla posta. Non è che l'hai letta? Oh, se l'hai sbirciata. No, no, non ho letto nulla, permesso. Posso leggerla? Sì, puoi leggerla. Ma è vuota. Ma come è vuota? Non c'è scritto niente. Guarda che se è uno scherzo, mi arrabbi. No, 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 è uno scherzo, per una volta non ti sto facendo nessuno scherzo. È vuota. Vabbè, magari... Sì, perché è letta schifosa, vabbè. Senti, comunque, che hai da fare oggi? A parte prendere il sole, nulla. Sì, perché devi sempre prendere il sole? Cioè, io direi, cioè, piuttosto che prendere il sole, vai dritto a dormire. Dovrei dormire, l'estate alle porte, la prova costume, ma dovresti farlo anche tu? Guarda che sei bianco, mamma mia. Ma guarda che è bellissimo essere come me. Cioè, cosa dici? Io sono perfetto così. Sì, sì, vabbè. Che cosa avevi in mente? Non lo so, senti, a parte che Marco si è andato in vacanza, quel maledetto. Comunque, aveva in mente... Senti, mi facciamo saltare la casa di Marco? Sì, ci sono, è una bellissima idea. Ah, però poi non ci sarebbe, perché è in vacanza, no, lascialo stare. Eh, però pensa quando torna, che bella sorpresa. Sì, sarebbe molto carino, ma non sono così crudele. Se non ha la reazione subito, non mi piace. Senti, vieni un attimo nel mio laboratorio, che ti devo mostrare una cosa. Ma io voglio saltare nel tuo trampolino, è troppo bello, mi vogliali. Ma lascia stare il mio trampolino, che sei Marco adesso che gli piace il mio trampolino? Sì, è bellissimo, ne voglia uno. Senti, dai, vieni che abbiamo altro da fare, Light. Va bene, uffa. Ma io volevo saltare nel trampolino. Eh, il trampolino ci starà tempo dopo. Senti, comunque, guarda cosa ti devo mostrare, guarda cosa ho creato. Sentiamo, qualcosa di pericoloso, me lo sento. Un portale spazio-temporale. Oddio, è pericoloso. Sì, è molto pericoloso. Non consiglio di entrarci. Tu sei fuori di testa. Ma perché? A che ti serve questa roba in casa? Eh, è bella. Ci sei entrato? Eh, no, perché probabilmente va nello spazio profondo. Dai, io lo proverai se fossi in te, scusa. Non ci tengo estremamente tanto, sai? Eh, nemmeno io. Senti, vabbè, comunque ti ho invitato qua per una partita alla PlayStation. Ma voglio saltare nel trampolino. Il trampolino? Oh, ma perché batte tutti così dannatamente il mio trampolino? Ma è divertente, è una bellissima giornata. Comunque, dai, voglio giocare a Tekken, così ti batto. Sì, sì, vediamo chi batte chi. Senti, ma io proporrei più che Tekken craftatia. Uffa, vabbè, dai, ok. Dai, che è un bellissimo gioco. Guarda come ti batto, Laito. No, vincolo io. No, non vincite. No, no, stai ferma. Guardate. Dai, vai, vai. Tanto vincolo io. Non è vero, vai. È saltata la corrente. Che peccato, così andiamo a giocare fuori. Ma era così bello. Ma che cavolo, per una volta che vincevo. Non è vero, stavo vincendo io. Sì, sì, inventati delle scuse. Stavo palesemente vincendo io. No. Senti, Laito, posso saltare su un trampolino? Ma se andassimo tipo a prendere qualcosa al bar in spiaggia? Paghi tu? Va bene. Ok, allora vengo, voglio un gelato. Senti, cosa vuoi? Cioè, c'è molta scelta. Cioè, ci sarà pur qualcosa che desideri al bar? È un gelato al cocco. Un gelato al cocco? Beh, sì, è un frutto tropicale. Io già mi sento in estate. Vabbè, come desideri. Senti, ma non c'è il barista. Questa cosa è strana. No, ma io adesso voglio il gelato. Ma sai. Non so, ma che servizio è? Io faccio a modo mio. Nessuno ci vedrà. Ma cosa stai facendo? Ma tu sei un po' zitto. Stai rubando. Ma beh, io ho rubato le scorte. Ma non si ruba. Ti ho rubato solo delle scorte. Cosa vuoi che sia? Mamma mia. Ma non dovrei rubare. Ci fai arrestare, guarda. Non ci faccio arrestare. Ma ti pare che ci arrestano? Io non ti conosco. Ma sta zitta. Dai che lo so che vuoi anche te quello che c'è qua dentro. Light, guarda qua dentro quante bevande. Oddio, sì. Vabbè, dai, non si arrabbierà nessuno. Adesso mi conosci però, eh. Ma io amo i dolci. Vedi che avevo ragione. Non posso resistere. E poi io non ho visto nulla, quindi... Non so niente. Questa la vado a nasconderemo. Eh, senti Light, se vuoi tornare a casa tua, tanto ti ho rotto le scatole. Ora io me ne vado al mio laboratorio. Addio. Eh, ok, vabbè. Io mi tengo gelati. Ciao. Va bene, sì. Ciao, ciao Light. Bene, allora portiamo questo scatolone qua sotto. Anche perché nessuno lo dovrà mai trovare. Quasi, quasi lo butto qua sopra. Quindi dammi qua e lascialo lì. Così almeno poi le piazzoni che ci passano prendono anche un po' di sapore dolciastro. Detto ciò, detto ciò. Allora qua non ho nulla da fare. Quindi magari, ecco, dai, torniamo a rompere le scatole a Lightning. Allora, Light teoricamente ha detto che andava a casa sua. E quindi, niente, andiamo a casa sua e vediamo se è a casa sua. Allora, cosa ci fa un signore lì davanti a casa? Non mi faccio domande. Light? Light? Dove sei? Light? Perché non c'è più Light? Light? Che fino... Ma mi ha detto che veniva a casa sua. Guarda che c'hanno tutte le porte un po' storte. Vabbè, non mi faccio domande. Eh... Presumo che non sia a casa. Vabbè, dai, succede. Non capisco perché ci sia sto signore. Senta, signore, per caso ho visto una ragazza di nome Light qua da queste parti? No, no, no. Non ho visto nessuno, ragazzo. Senti, però... Sai per caso dov'è? La cercavo pure io. No, non l'ho vista. Ma come la cercava anche lei? Per cosa? No, no. Giusto perché, sai, è la mia nipotina. Volevo salutarla. Gli ho pure mandato una lettera. Ah, la sua nipotina va bene. Non mi faccio domande. Addio. Questi signori d'oggi mettono sempre più angoscia. Sono molto fin troppo inquietanti. Vabbè, essendo che quel signore non sapeva nulla, potrei chiedere al barista. Anche se se il barista scoprisse che io ho rubato un barile, potrebbe prendersela. Ma sicuramente non lo sa. Proprio per questo proverei a chiedergli se lui sa qualcosa riguardo a Lightning. Quindi dovrebbe essere qua. Speriamo che almeno sia tornato dalla sua vacanza. Infatti, eccolo qua. Buongiorno. Salve. Ah, è una ragazza? Eh, sì, dimmi pure. Ah, pensavo fosse un barista. Senta, comunque, eh, aver caso visto una ragazza? Mm, no, ma sto cercando qualcuno che ha rubato un barile da questo bar. Mm, mm, è... Ha controllato per caso se magari è sulla ruota panoramica? Mm, non credo. Io le dico, di solito quello che fa queste cose è il ragazzo con la casa rossa, eh. Ok, quindi poi... Buono a sapersi, andrò a cercarlo sicuramente. Sì, sì, senta, comunque, aveva capelli biondi, occhi azzurri, un fulmine sulla maglietta. Forse sì. Alla vista. Mi sembra ha lasciato qualcosa per te. Ah, lei ha lasciato qualcosa? Sì, aspetta che controllo. Siamo sicuri? No, forse l'ha lasciata uno che era con lei. Uno che era con lei? Che cavolo conosce la... Sì. Vabbè, eh, vabbè, mi dia questa cosa. Vediamo un po' cosa c'è scritto. Però magari la lanci meglio, grazie. Senta, vengo io lì dietro, mi dia pure, che sennò non ce la facciamo più. Fammi leggere sta lettera. Allora, lettera per Zickson. Se stai cercando Light, sappi che non la troverai mai più. Adesso è in mio possesso e non la lascerò mai andare. Ma che diavolo? Mi scusi, ma chi è questo? Non lo so, non chiedere a me. Io ho preso solo una lettera. Ma che dia... Ma che diavolo? Come Light è stata rapita? È possibile che quella lì non riesce mai a starsi buona e ferma? Ah, in modo, chissà dove l'ha portata. Come cavolo la troverò adesso? Cavolo, mo, chissà dove è finita? Io come diavolo la devo trovare a sta ragazza? È impossibile. Non è fattibile. Chi diavolo sei te? Ehi! Ma dove vai? No, ferma! Ma guardate, ma che diavolo... Ma che ci faceva davanti alla mia cassetta della posta? Eh, ha pure rotto tutto. Fammi andare a prendere un blocco, che sono quasi notato tutto il mio meccanismo. Guarda te, ste ragazzi che mi rompono pure casa. Senti, vabbè, fammi vedere se ha lasciato qualcosa. Una mappa? Con una X sopra? Ma che diavolo vuol dire una mappa con una X sopra? Non è che per caso è dove è stata portata Light? Beh, tanto vale andare a controllare. Nel peggiore dei casi non ci sarà nulla. Nel migliore dei casi c'è Light. Allora, io teoricamente la conosco bene, quella zona dovrebbe essere il laghetto dietro il supermercato, ovvero questo. Quindi non dovrebbe mancare tanto prima che io mi veda all'interno della mappa, giusto? Teoricamente fra qualche secondo dovrei iniziare a vedermi esattamente ora. Infatti eccomi lì. Quindi ora presumo che io debba andare più o meno là. Che sì, la mappa indica quel punto. Quindi dovrò andare per forza di cose lì. Speriamo che vada tutto bene, speriamo che non sia una trappola. Effettivamente una ragazza che mi lascia una cosa così non è troppo da rassicurazione. Però noi abbiamo fiducia perché Light alla fine mi ha salvato molte volte. Quindi come minimo la devo salvare. Ok, dovremmo essere arrivati. Questo è il punto. Quindi non mi sembra di vedere nulla. Probabilmente devo scavarmi sotto. Almeno presumo. Oh, questo cos'è? Perché c'è della concritte rosa? Ma che diavolo? Scava, 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 scava. Veloce, 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 scava. Oh, oh. Dove diavolo sono finito? Ok, direi che la mappa mi ha portato precisamente nel punto che mi serviva. Ma che diavolo è? È tipo un santuario con Light? Con la mega faccia di Light? Che poi se io chiudo effettivamente è proprio la sua faccia. Comunque sia, non mi dire che io devo fare un dropper. Io non li so fare i dropper. Però se voglio salvare Light non ho altra scelta. Quindi presumo che io mi debba lanciare qua in mezzo e andare a centrare... Ok, tentativo numero due a sto giro ce la devo fare. Ok, c'entra l'acqua. Allora, no. Allora, non può essere così difficile fare il suo dropper. Ok? Così, così, c'entra l'acqua. Perfetto, te l'ho detto. Era troppo semplice. Semplicemente ho avuto qualche piccolo problema. Di, di... Nulla, sentite... Non lasciatemi stare. Andiamo al prossimo... Ma sai che quasi, quasi Light la posso anche lasciare dov'è? Vabbè, però dai, una mia amica. Non posso abbandonarla così. Perché io mi devo condannare la vita in queste maniere? Ok, tentativo numero uno. Lanciamoci. Ok, non ci sto capendo nulla. Ok, vedo dell'acqua lì. Dell'acqua... Aia, ok. Fallo per Light. Ti prego, dell'acqua, dell'acqua. Mi serve dell'acqua, acqua, acqua, acqua. Allora, cerchiamo di individuare una pozza d'acqua che è lì sotto. Ok, schiviamo benissimo tutto. Ok, schiva, 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 schiva. Questo è molto più complesso. Ok, salto della fede per Light. Ok, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Eccola lì, là. È troppo complesso. Sto morrendo più volte qua che in tutta la mia vita in altre cose, ok? Lì c'è l'acqua, c'è... A sto giro ce la farò. Devo solo concentrarmi. Lì c'è la pozza d'acqua. Quindi ora devo solo centrarla e ce l'ho fatta. Lo sapevo, sono troppo forte. E però dov'è il bottone? Eccolo lì. Allora, saranno sicuramente finiti i dropper, no? Oh mio Dio, presumo proprio di no. Oh cavolo, che diametro dovrei fare qua? Ok, senza paura un bel saltino. Ok, lì c'è dell'acqua, ma non è quello che mi interessa. Qua sotto non c'è l'acqua, c'è lì, lì, lì. Allora diciamo che non inizia esattamente come speravo, però teoricamente se io faccio un salto tutto di qua, schivo qua. Devo schivare quella montagnola là. Ok, allora così scendiamo, ci mettiamo qua, ci infiliamo qua, ci buttiamo qua. Io non ci credo che ho preso l'unica lily pad che c'era. Senti, comunque, senza paura, devia tutto, devia tutto, devia tutto, quando finirò a questo livello, a chiunque abbia creato sta cosa, ci devo fare una bella ramanzina. Ok, ce la posso fare, io sono velocità, io sono astuzza, io sono di tutto. Infatti ce l'ho fatta, sono troppo forte, quindi mi aspetto che ora ci sarà un altro dropper. No, c'è, oh, un parkour. Di me gli impeggio alla fine, ok, facciamo sto parkour, che non dovrebbe essere troppo complesso, almeno in teoria. Ti prego, ma perché di tutti i punti in cui poteva farsi riapire light in un parkour così complesso, ok? Slime block, saliamo di qua, ora di qua, di qua, altro slime block, che non ho preso, ma tanto io faccio così e me ne sbatto. Ora di qua, di qua, ora salgo su questa scaletta e proseguo. Ma io non mi arrendo perché devo salvare la mia amica, quindi cerchiamo di evitare di morire. Eeeh, oh, una chest? Con uno spyglass al suo interno? Che meno dovrei fare? Dovrei osservare tipo meglio la concrete? Non penso. Proprio per questo continuiamo nella nostra strada verso... Oh, ma là c'è qualcosa. Ok, a quanto pare abbiamo altre, per fortuna che lì c'era un blocco invisibile, se no probabilmente sarai morto. E là abbiamo un qualcosa che non capisco cosa diavolo sia. Sembra una specie di caverna, ma non ne sono sicuro. Quindi cerchiamo di muoverci perché se light... È lì dentro, e questo parkour io lo sto iniziando a odiare, ma meno male che si può cittare. Se light è lì dentro dovrei teoricamente trovarla abbastanza facilmente. Quindi scendiamo di qua. Ora questo salto che mi porta esattamente qua, ora qua. E sono arrivato in questo punto. Che diavolo è? Buongiorno, lei è il minatore? Beh, presumo di sì, ma sa parlare? Presumo che non sa più parlare. Senta, lei per caso ha visto una ragazza a capelli biondi, occhi azzurri, felpa con una fulmine sopra? Non ci ho capito nulla. Potrebbe scrivere con un cartello cosa dovrei fare, cioè se l'ha vista? Ok, quindi scrivi con un cartello. Vabbè, almeno così dovrei capire se ha la vista passare. Ok. Sì l'ho vista passare, io avrei vista. Ok, sì, non sai neanche scrivere, vabbè. Quindi dov'è andata? Dritto davanti a te, cioè è andata di qua. E infatti c'è una porta, ecco, come c'è dalla porta? Scusami, cioè è bloccata, è in ferro. Puoi scrivere che non ci capisco nulla della tua lingua. Devo scavare cosa? I minerali devo scavare? Oh mio Dio, quanti te ne servono? Tutti li devo scavare. Oh, ma ci metterò una vita. Vanno bene qualche stack di diamanti, un po' di roba, va bene? Va bene, va bene, perfetto. Allora mi tocca veramente scavare tutti questi minerali. Ci vorrà un'eternità. Ma alla fine dei conti, meno male che ho delle abitazioni che mi permettono di enchantare sto piccone. Almeno dovrei metterci molto di meno a scavarli. Rimane comunque il fatto che sono tantissimi. Cioè in pratica mi ha assunto per fare il suo lavoro al posto suo. Ma guarda te sto maledetto minatore. Poi mi fa lavorare tutto. Ma guarda te, se io non lo faccio fuori è un miracolo. Vabbè, vediamo se magari questi bastano. Dai, presumo che i basteranno. Giusto? Penso che devo dropparli qua dentro. E non bastano ancora. Mi tocca scavare ancora un bel po'. Ma quanti ne vuoi? Scusa. Cinque stack. Mamma mia, non finirò mai. Era meglio non venire a salvare Light. Guarda te cosa mi tocca fare. Mi tocca diventare un minatore per salvarla. Quanto è lunga la vita. Ah, signor minatore, però veramente è veramente una persona cattiva. Io devo salvare la mia amica e lei mi fa fare il suo lavoro. Ma si rende conto? Ok, non gli interessa. Va bene, va bene, va bene. Ho capito. Ah, sti minatori d'oggi che gli interessano solo i minerali. Mamma mia, quelli di un tempo ti davano una mano, ti aiutavano. No, no, quelli di oggi vogliono solo che tu lavori per loro. Ok, con questo ferro ho scavato tutti i minerali di questa caverna. Guarda te cosa mi è toccato fare. Vabbè, vediamo se ora bastano. Quindi butta tutto qua dentro, per favore. Oh, oh, oh. Come si sia aperta, signor minatore? Io me ne vado. Tenga i suoi ultimi minerali che... Anzi, no, questi me li tengo io. Via, 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 via. Sono miei. Sai che ti dico? Mi prendo pure questi qua, qua dentro. Tutti i miei. Sì, sì, lamentati, lamentati. Possiamo parlare? No, 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 signor minatore. Va bene, tenga, tenga tutti i suoi minerali. Scherzavo tutti i suoi. Anche il suo peccone, ok. Non è più nulla. Mi scusi. Ok, no, no, non lo rifaccio. Mamma mia, stiminatorio. Qua dentro, che diavolo? Un'armatura rosa? Cioè, ma cosa mi dovrei fare in un'armatura rosa? Penso di aver capito cosa devo fare. Poi un'armatura rosa. Ma siamo... Questa è colpa di Light. Fammi uccidere questi zombie. Oh, mamma, quanti sono? Quanti diavolo sono? Eh, potrebbe essere più difficile del previsto farli fuori. Eh, ok, 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 mamma mia, se mi fanno fuori. Ok, allora nientiamo tutti questi zombie. Mamma, quanti sono? Sono veramente troppi. Ma come faccio con questa spadina che non fa neanche danno? Ah, poteva almeno essere incendata con Sharpness 5. Guarda qua, quanti sono? Maledizione a che ha inventato quest'arena. Sono giusto un po' troppi. Non è che da qua, da qualche parte c'è qualcosa che mi possa tornare utile? Ok, forse qua sopra vedo qualcosa. Ok, cerchiamo... Mamma, quanti sono? Ti prego, dimmi che c'è qualcosa di buono. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No, 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 non cadere, non cadere, non cadere. No, 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 no. Cosa abbiamo qua dentro? Ti prego, ti prego, devo vedere. Oh, è arrivato Babbo Natale. Aia. Sì, peccato che Babbo Natale ora devo raggiungere di nuovo là sopra. Ed essendo che è tutto rotto, devo fare in una maniera molto strategica. Quindi piazza questa qua sotto, ora salta e vai su. Ok, ora prendiamo il flint e steal. E ora puro divertimento a me. Sì, farò scoppiare un po' il ring. Ma non mi interessa, venite a me. E venite lì, bravissimi. Oh, là. E almeno un po' me li sono levati. Ora facciamo scoppiare pure questi qua. Oh, bravi, restate lì, restate lì. Oh. E me ne sono letteralmente, finalmente anche liberato di tutti voi zombie. Uccidiamo solo voi ultimi che siete quelli più fastidiosi. E finalmente mi sono liberato di tutti gli zombie. E mi infatti si è aperta quella porta. Quindi presumo che io debba andare di qua per salvare Light. Fammi levare sta armatura tutta rosa, va. E siamo arrivati in una specie di casa? Ok, abbiamo varie robe che non capisco la loro effettiva utilità. Ma io me le prendo comunque che non si sa mai che in realtà servono veramente a un qualcosa. Quindi tipo me le prendo tranquillamente tutte. E ora continuiamo l'esplorazione di questa casa. Qua ho preso tutto, ma non capisco cosa dovrei fare in questa casa. Cioè è vuota, non c'è nulla. E cosa dovrei fare? Magari qua nel garage non c'è nulla. Oh, una porta che va sotto? Ma che diavolo dovrei fare qua sotto? È una porta degli hopper. Oh, è Light. Light è qua. E devo trovare un modo. Magari devo tipo mandare tipo la roba rosa di qua. Tipo tutta la roba rosa che ho la mando di lì. Oppure devo mandarla anche tipo di qua. Insieme magari a il cibo preferito di Light. Che qual è? È il cibo preferito di Light. La pizza secondo me. Ok, insieme a tutta la roba rosa. E si è aperta la porta. E ora Light dovrebbe essere qua sotto. Light, mi senti? Sì, presumo che è qua sotto. Ok, cerchiamo di farlo uscire. Light, dove sei? Light, dove cavolo sei? Maledizione. Light, Light, dove sei? Oh, Light. Light. Oh, Jackson. Tutto bene? Stavo volendo. Che ci facevi di sotto? Non lo so. Un tizio mi ha messo qua sotto. Non l'ho visto, Ghi. Come un tizio? Non l'ho visto. Era vestito di nero. Vabbè, senti dai, usciamo prima che fai una brutta fine. Senti dai. Senti dai, Light. L'importante è che sei tornata a casa, no? Sì, meno male. Oddio, ho paura. Senti dai, ti ho preparato pure del buon sushi. Comunque, senti, vai pure su te a fare le tue cose. Mi ha mangiato pure il tavolo? Stavo venendo di farlo. Ho capito, ma il cavolo. Vabbè, senti dai, vai pure sopra. Mamma mia, quanto è complesso il mondo. Fammi andare nel mio laboratorio. Ok, cosa? Cosa, Light? Tizio, guardalo dalla finestra. Come c'è un tizio? Oh, che è quel tizio? È lui? Sì, è lui, è lui. Ok, me ne occupo subito io. Vieni qua, maledetto. Dove pensi di andare? Mo' vedi che fine ti faccio fare il lurido maledetto.